Se un cittadino si stampa questa ordinanza e un vigile urbano lo ferma, io non so come questo vigile urbano possa mettere una sanzione a questo cittadino. L'errore è ancora ben visibile nell'ordinanza pubblicata nel sito web del Comune. Nero su bianco autorizza la circolazione dei veicoli Euro 1 ed Euro 2, quelli che da lunedì, per ridurre l'inquinamento, non potranno più transitare in città. Per Cassugana un banale sbaglio di scrittura, per il consigliere di minoranza Mario Conte qualcosa di ben più grave. A questo punto non si capiscono più quali sono le autovetture autorizzate alla circolazione e quali non, perché qui dice che non possono circolare le autovetture non conformi alle direttive Euro 1 e Euro 2. Quindi Euro 1 e Euro 2 possono circolare o no? Chiedo questo all'amministrazione. Quale vigile, vista l'ordinanza, avrà il coraggio di multare un automobilista? Si domanda Conte. Le minoranze si riservano di presentare ricorso contro il provvedimento. Assolutamente, valuteremo tutte le strade percorribili per tutelare i cittadini da questa ordinanza che secondo noi non ha senso. Mi concentrerai piuttosto nel limitare la provincia di Treviso che ha incentivato la sostituzione di caldaie, da caldaie inquinanti a caldaie meno inquinanti, di ultima tecnologia, con dei contributi reali. I municipi però sono tranquilli, la correzione dell'ordinanza è già stata protocollata e da lunedì sarà pubblicata. Tanto basterà per far entrare in vigore i divieti con controlli serrati. E chi dovesse essere pizzicato a violare per due volte il blocco si vedrà addirittura sospendere il libretto di circolazione.